Il bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 del Comune di Nuoro sabato prossimo approda in Consiglio Comunale per l'approvazione. Il Presidente dell'Assemblea Fabrizio Becco ha infatti convocato il Consiglio Comunale per l'approvazione del piano triennale di alienazione degli immobili comunali, lo schema per le opere pubbliche per il 2016-2018. Sabato è anche l'ultimo giorno utile per l'approvazione del bilancio di previsione. Dopo l'ultimo attimo, il richiamo ha fatto pervenire all'amministrazione comunale della Regione attraverso l'assessorato agli enti locali in data 27 giugno, un decreto in cui si davano i 20 giorni al Comune di Nuoro e si ricordava l'amministrazione e le conseguenze della mancata approvazione del documento contabile. L'avvio delle procedure per lo scioglimento del Consiglio Comunale è la nomina di un commissario ad acta. La scadenza prevista per legge è il 30 aprile, ma sono un centinaio i comuni sardi che non hanno ancora proceduto all'approvazione del bilancio di previsione. In queste settimane dai banchi dell'opposizione, in particolare dal Consigliere Comunale Pierluigi Saiu, sono arrivati i richiami all'amministrazione comunale ad adempiere a questo fondamentale atto amministrativo. Il Consigliere Saiu ha sottolineato come Nuoro sia l'unico capologo di provincia sardo ad non averlo ancora affatto. Sulla questione è intervenuta all'indomani dell'ultimo attimo della Regione anche il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, che ha richiamato l'ente regionale ai propri doveri. Il primo cittadino in quella occasione si è detto certo che l'amministrazione adepirà gli obblighi di legge, ma ha bacchettato la Regione che se sollecita nel minacciare sanzioni comuni non risponde sulle questioni di merito poste dagli enti locali. Ora la palla passa al Consiglio Comunale che sabato è chiamata a chiudere la partita del bilancio di previsione 2016, poi però si dovrà occupare di chiudere i conti del 2015 con l'approvazione del bilancio consuntivo.